Grande presenza in campo, l'unica due triple della tua squadra l'hai messa tu, quando non entra il tiro da tre cosa vuol dire? Un po' di emozione? Ma sicuramente è quello, ma dobbiamo cercare di attaccare meglio, perché loro spingono sempre sui pick and roll e poi dobbiamo cercare di entrare in aria e poi vedere uno scarico libero, stimare come già per te tutti voi Com'è il giocare in questa atmosfera? Sono entrato e mi sono messo a saltare perché ho detto mamma mia ci sono è una bellissima sensazione, vediamoci a splendide luce Grazie, grazie Marco Spiso